Sabato mattina al mercato ortofrutticolo di Cesena si è tenuta la terza edizione di Frutta Party, un evento che fa parte della Wellness Week e che ha lo scopo di avvicinare i più piccoli al mondo dell'ortofrutta e alla sana alimentazione. Terza edizione di Frutta Party, di cosa si tratta? Si tratta di un invito che facciamo a tutte le scuole, in questo caso le elementari di Calisese, in cui le invitiamo a venire al mercato, li portiamo gratuitamente con il pullman, li facciamo conoscere la nostra struttura, come lavoriamo e gli offriamo la merenda che trattasi sempre di frutta fresca sotto forma di spiedini e macedonia di frutta per promuovere il consumo di frutta fresca e nello stesso tempo far conoscere la nostra struttura. Un evento che fa parte della Wellness Week? Si, come gli anni precedenti, questo è il terzo anno che partecipiamo come evento alla Wellness Week perché nella nostra mission c'è quello di promuovere il consumo della frutta e della verdura sotto forma di sana alimentazione cinque volte al giorno. Non vedo come non invitare i nostri amici degli elementari per insistere sempre su questo tema della sana alimentazione.